SOS, tartarughe marine, sono circa 200.000 gli esemplari che ogni anno vengono catturati accidentalmente dai pescatori. Moltissimi muoiono a causa della plastica e dei rifiuti ingeriti, intrappolate nelle reti offerite dalle eoliche. I nidi sulle spiagge possono essere travolti dai trattori spazza spiaggia e i piccoli appena nati, disturbati da luci e rumori molesti, possono perdere l'orientamento e non raggiungere il mare. Negli ultimi anni la sensibilità e l'attenzione nei confronti di questi animali è molto aumentata, spiega il direttore generale di Lega Ambiente Stefano Ciafani. Grazie anche alla collaborazione dei pescatori e dei turisti, grazie ai nostri volontari decine di nidi sono stati monitorati e protetti fino alla schiusa delle uova, ma dobbiamo fare di più. Per questo abbiamo pensato a Tarta Love, la campagna di adozione di Lega Ambiente che prevede un contributo volontario che permetterà di curare e salvare migliaia di esemplari a rischio, monitorare le spiagge in cerca di nidi da proteggere, informare le persone dei giusti comportamenti da adottare per salvaguardare il benessere degli esemplali che popolano i nostri mari. Sul sito www.tartalove.it è possibile visionare periodicamente le foto e le brevi storie delle tartarughe da adottare personalmente o come regalo per una persona cara. Per ogni donazione verrà inviato un piccolo kit di adozione paper free che include un certificato di adozione, una fotografia della tartaruga scelta e un racconto più ampio della sua storia.